Basenji nei film. Basenji è apparso in film come. Una storia di Onosuke. 2013. Ace Ventura. Detettive degli animali. 1994. La regina africana. 1951. Gatti e cani. 2001. Il giardiniere costante. 2005. Arrivederci mia signora. 1956. La magia di Lassie. 1978. I file segreti degli Spidox. 1998. Episodio. Alcune delle cose che fanno le molecole. 2014. Gli standard di razza possono cambiare nel tempo. Sia gli standard di aspetto che quelli riguardanti il carattere della razza, o le qualità lavorative possono cambiare. Le opere d'arte dei primi anni raffigurano i rappresentanti più tipici delle razze dell'epoca. Confrontandolo con l'aspetto moderno della razza, potrai valutare quanto la razza è cambiata nel tempo. Interessanti sono anche le fotografie d'archivio di razze specifiche, che puoi trovare su internet nei forum specializzati sulla razza. Riferimento storico della razza e del sottogruppo. Basenji, o cane zande, o cane della foresta del Congo, o bongo terrier, o congo terrier, o niam niam terrier e una razza di cane da caccia. Nel XIX secolo, questa razza dimenticata fu scoperta dagli esploratori del Congo, e del Sud Sudan. La gente del posto, addestrava i cani a infilare la selvaggina nelle reti. I Basenji cacciano senza voce. Per natura sono allegri, buoni nei rapporti con i bambini, ma non vanno d'accordo con i parenti. Nell'antico Egitto, questi cani venivano portati in dono ai faraoni, che veneravano molto Basenji, e li consideravano un amuleto vivente. Ciò è evidenziato dalle immagini murali di Basenji nelle tombe dei faraoni, così come dalle mummie ritrovate di cani sepolti con onore insieme ai loro grandi padroni. Cani come i Basenji erano comuni in Nubia, l'attuale Sudan. Nelle sepolture dell'antica cultura nubiana di Kerma, gli archeologi hanno scoperto la tomba di una donna, e ai suoi piedi un cane simile a Basenji. Nello Zaire, nella Repubblica Democratica del Congo, i Basenji sono ancora utilizzati per la caccia, e sono molto apprezzati per le loro eccellenti qualità venatorie. Nel 1895 i Basenji lasciarono per la prima volta il continente africano e furono portati dai marinai in Inghilterra, ma quei cani non sopravvissero. Nel 1905 i Basenji apparvero allo zoo di Berlino come animali esotici e negli anni 30 furono riportati in Inghilterra, dove fu approvato lo standard di razza, utilizzato ancora oggi. Nel 1937, il primo Basenji apparve in una mostra negli Stati Uniti sotto il nome di Congo Terrier, dopodiché la razza fu notata. Nel 1941 una copia di Basenji fu portata in America, e da loro iniziò la diffusione di questa razza nel mondo. Secondo uno studio condotto da genetisti nel 2011, i Laika e i Basenji della Siberia orientale del Congo e del Sudan appartengono all'aplogruppo HG9 del cromosoma Izzilon. L'aplotipo cromosomico Izzilon della razza Basenji è sorella di altri cani domestici. Ciò potrebbe indicare una mescolanza nei Basenji moderni di lupi del Medio Oriente e del Nord Africa. Il Basenji è strettamente imparentato con lo spitz asiatico per il genoma nucleare. Come amico di casa, Basenji è la scelta migliore. Il pelo corto è quasi esente da manutenzione. Ha l'abitudine di lavarsi con la zampa, come un gatto, va d'accordo con i cavalli. È diffidente nei confronti degli estranei, non gli piace la pioggia. Questo è un cane molto interessante, insolitamente curioso, famoso per il suo carattere dolce e affettuoso, ama giocare con i bambini. Basenji è un antico cane da caccia egiziano. Le sue immagini si trovano su molti bassorilievi nelle tombe dei faraoni. Cani di questa razza si possono ancora trovare in Congo, Sud Sudan, Egitto. Attirano l'attenzione dei viaggiatori che li portano con sé in diversi paesi del mondo. Il Basenji è un cane di bella corporatura, leggero e aggraziato come una gazzella. È piccola di statura. L'altezza algarrese va dai 40 ai 43 centimetri. La parte craniale della testa è ampia. Il passaggio dalla fronte piatta al muso è pronunciato. Gli occhi sono di taglia media, scuri. Le orecchie sono appuntite, erette, leggermente inclinate in avanti, attaccate alte. Il collo è lungo e forte. Il torace è profondo e largo. La coda è piccola, attaccata molto alta, ben premuta contro la coscia, strettamente piegata in uno o due anelli. Il pelo è liscio, aderente al corpo, la pelle è elastica. Colore rosso, nero focato o nero. Tutti i colori hanno zampe, petto e punta della coda bianchi. Nella loro terra natale, nello zaire, ci sono cani di colore marmoreo e tigrato. I cani della razza Basenji sono fortemente attaccati alla famiglia umana in cui vivono. Allo stesso tempo, sono attaccati a tutti i membri della famiglia. Sono anche abbastanza contenti con gli estrani. Alcune razze sono fortemente attaccate a una persona, altre a tutti i membri della famiglia umana, altre ancora possono avere un atteggiamento amichevole verso tutte le persone in generale, e la quarta potrebbe non avere legami stretti nemmeno con il proprietario. L'atteggiamento di qualsiasi cane verso gli estranei dipende fortemente dalla razza dell'animale, ma ancora più fortemente questo atteggiamento dipende dall'educazione e dalla socializzazione di un particolare individuo, mentre la socializzazione nella prima infanzia dell'animale domestico è particolarmente importante a questo riguardo. Allo stesso tempo, anche i Basenji vanno molto d'accordo con i bambini. Tuttavia, indipendentemente dall'atteggiamento amichevole del cane nei confronti dei bambini, un cane di qualsiasi razza non dovrebbe essere lasciato solo con i bambini piccoli. Alcune razze di cani, sono più rilassate riguardo al comportamento dei bambini piccoli, e potrebbero non prestare attenzione ad alcune buffonate dei bambini, tuttavia, dovrebbe essere chiaro che i cani di tutte le razze, non importa quanto siano amichevoli, dovrebbero stare con i bambini solo sotto il controllo supervisione del proprietario o degli adulti, poiché oltre alle qualità della razza in relazione ai bambini, ci sono anche le caratteristiche individuali di ogni cane, la sua educazione, e la precedente esperienza nella comunicazione con i bambini. Anche queste relazioni sono largamente influenzate dal comportamento dei bambini. I Basenji non vanno d'accordo con gli altri cani. Diverse razze di cani trattano i propri simili in modo diverso, alcuni cani giocheranno e interagiranno in ogni modo possibile con i cani che incontrano o con cui vivono, altre razze potrebbero provare a dominare o addirittura attaccare i loro simili a quattro zampe. Allo stesso tempo, la relazione tra cani, può essere molto diversa da come un cane reagisce alle persone. Il comportamento di un cane in relazione ad altri cani e persone dipende non solo dalla razza, ma anche dalla socializzazione di un particolare individuo. Cosa non si può dire dei piccoli animali domestici come criceti, ratti domestici, scoiattoli, cincillà e altri roditori. Tali animali dovrebbero essere tenuti lontani dai cani Basenji. I gatti possono andare d'accordo. Uno dei grandi vantaggi della razza Basenji è la natura poco impegnativa di questa razza per l'esperienza di possesso del cane da parte del proprietario. Alcune razze di cani sono più facili da allevare e addestrare, mentre altre sono più indipendenti e persino assertive e richiedono un proprietario esperto. La razza Basenji è ottima per i proprietari di cani inesperti o anche per coloro che prendono un cane per la prima volta. I Basenji sono ottimi anche da tenere in appartamento. Inoltre, a differenza della maggior parte delle razze, possono tollerare la solitudine e l'assenza temporanea del proprietario. La qualità e la quantità della lana permettono ai Basenji di sopportare comodamente il caldo, ma le basse temperature non sono più sicure per i quattro zampe, anche il clima fresco non è confortevole per la razza Basenji. I carichi attivi dovrebbero essere evitati nella stagione calda e camminare senza vestiti nella stagione fredda. Apprendimento e formazione. Tutti i cani possono essere addestrati e addestrati, ma alcune razze ricordano ed eseguono i comandi più velocemente e più facilmente di altre razze. Razze diverse necessitano di un approccio diverso alla formazione e all'istruzione. Alcune razze possono sembrare scarsamente addestrabili o addirittura stupide, tuttavia, nella maggior parte dei casi, la destrabilità di una razza di cane, è dovuta alla natura testarda o indipendente della razza o dell'individuo. Questo è proprio il caso dei Basenji, sono abbastanza intelligenti da capire, cosa si vuole da loro, ma allo stesso tempo sono anche testardi. Di grande importanza nella destrabilità di un cane, è anche il ruolo dei metodi di addestramento utilizzati dall'addestratore per una razza particolare. Nel libro The Intelligence of Doss del professore di psicologia dell'Università della British Columbia Vancouver Stanley Corrine, Basenji è classificato 79 su 80 in termini di capacità di apprendimento. A questo proposito, la razza si trova accanto a razze come il bulldog inglese e il levriero afgano. Nel libro del professor Stanley Corrine, Basenji si trova nel gruppo. Cani con scarse capacità di apprendimento. Padroneggiare una nuova squadra da 80 a 100 ripetizioni. Esecuzione del comando fin dalla prima volta. Nel 25% dei casi e oltre. Lo svantaggio di questa scala per le capacità di apprendimento, per stessa ammissione dell'autore, è la sua forte dipendenza dalla capacità di obbedire e comandare l'esecuzione, ad esempio per i cani da lavoro o da lavoro, e una debole connessione con la comprensione e la creatività, ad esempio la caccia cani. Di conseguenza, alcune razze si collocano più in basso nell'elenco a causa della loro natura testarda o indipendente, che non le rende debolmente intelligenti o non addestrabili. Tendenza ad abbaiare. Tra le altre cose, le razze differiscono nel livello di rumore, o meglio, nella frequenza con cui abbaiano. Alcune razze possono abbaiare continuamente senza fermarsi, e non si stancano mai di abbaiare ad ogni estraneo o cane strano che passa davanti a casa tua o da solo, altre razze abbaiano solo per lavoro, quando è necessario secondo lei, e altre ancora possono solo dare voce in casi eccezionali. Basenji può essere attribuito al terzo gruppo sopra descritto. Questa razza voterà solo in circostanze eccezionali. È generalmente accettato che i basenji non sappiano abbaiare nel senso comune, come fanno i cani. In effetti, a volte puoi sentirli abbaiare in modo abbastanza familiare come gli altri cani, ma questo accade raramente. Fondamentalmente, danno il suono a modo loro. Ma questi cani non sono privati del desiderio di rosicchiare. Il desiderio di sgranocchiare e assaggiare tutto è comune ai cuccioli di tutte le razze, ma da adulti le diverse razze hanno diversi gradi di propensione ad esplorare il mondo con i denti. I basenji sono molto inclini a questi scherzi. Attività e livello di energia. A seconda del livello di carica e di attività, le razze possono anche essere suddivise inattive e tranquille o addirittura pigre. Un cane attivo richiederà passeggiate costanti, addestramento e frequenti stimoli mentali da parte tua. I cani calmi e meno energici si accontenteranno di brevi passeggiate in casa, e condivideranno volentieri la tua voglia di sdraiarti sul divano di casa. Questa caratteristica dovrebbe essere presa in considerazione quando si sceglie un animale domestico, poiché i bisogni insoddisfatti di un animale attivo si realizzeranno a casa sulle cose, e sugli oggetti della tua casa. La quantità di energia del cane determina anche con quale desiderio e per quanto tempo giocherà con te, o con tuo figlio sotto la tua supervisione. I basenji sono razze molto attive. Tu, come proprietario di una tale razza, dovrai spendere l'energia dell'animale in tutti i tipi di attività ed esercizi attivi. Altrimenti, l'energia non spesa del cane, verrà spesa per cose e oggetti nella tua casa. Inoltre, molte razze hanno un desiderio innato di inseguire oggetti e animali in movimento, il grado di questo desiderio può variare da razza a razza. Se questo istinto innato è molto sviluppato nel cane, è necessario monitorare attentamente l'animale durante una passeggiata, e tenerlo al guinzaglio, poiché qualsiasi oggetto in movimento, può provocare l'inseguimento del cane, anche se si tratta di un'auto, che può danneggiare l'animale virgola. In tali momenti il cane può disobbedire al richiamo del proprietario e sfostare tutta la sua attenzione sul bersaglio in movimento. Inoltre, tali razze rappresentano un ulteriore pericolo per i piccoli animali domestici e gli uccelli. Basenji ha questo istinto in abbondanza, ma molto spesso non è in grado di affrontarlo. Questo dovrebbe essere tenuto presente quando si cammina con il proprio animale domestico. Passione per il vagabondaggio e amore per la libertà. Alcune razze hanno la tendenza a percorrere lunghe distanze a quattro zampe, per le quali sono state allevate, quindi questi cani, seguendo il loro istinto, non perderanno l'occasione di scappare da te e correre per un paio di chilometri, nonostante i tuoi richiami. Cani da slitta, segugi e segugi sono principalmente inclini a tali passeggiate. I basenji hanno questa inclinazione al massimo. Il naso di basenji può portarla a chilometri da casa. Tendenza a sbavare. Un grande vantaggio della razza basenji è la bassa salivazione. La quantità di saliva prodotta dipende dalle caratteristiche della razza. Alcune razze salivano così tanto che possono lasciare segni sul tappeto, sul divano, sul pavimento e su di te, anche altre razze salivano, ma questo accade in quantità molto minori. Fortunatamente i basenji producono pochissima saliva. Inoltre, il fatto che perdano pochissimo sarà un grande vantaggio per baseggi. La quantità di peli di cane nella tua casa e sui tuoi vestiti dipende molto dalla razza che scegli, alcune razze perdono tutto l'anno, altre solo stagionalmente, altre raramente. Questa caratteristica della razza può essere importante a seconda di dove intendi tenere l'animale, se i membri della tua famiglia sono allergici ai peli degli animali e quanto è importante per te in generale. Cura del cane. Alcune razze possono richiedere molta cura e attenzione a causa delle caratteristiche del mantello, della forma del muso, dell'abitato o della salute generale della razza. I basenji a questo proposito sono piuttosto nella media in termini di complessità della cura del cane, non richiedono molto tempo per se stessi. Perdono poco e il mantello è facile da curare. Salute generale della razza su una scala a 10 punti. La salute generale dei cani di questa razza, e la possibilità della comparsa di malattie genetiche in essi possono essere valutate su una scala a 10 punti da 4 punti. Basenji può manifestare dermatite, incontinenza urinaria e infezione della vescica, ipotiroidismo, piometra e infertilità. A volte i basenji portano un semplice genere eccessivo che, quando omozigote per il difetto, provoca anemia emolitica genetica. La maggior parte dei basenji del XXI secolo discendono da antenati, che hanno superato i test di purezza. Se non è possibile verificare completamente la discendenza da una linea completamente testata, il cane deve essere testato prima della riproduzione. I basenji a volte, soffrono di displasia dell'anca, con conseguente perdita di mobilità e sintomi simili all'artrite. Tutti i cani devono essere testati prima della riproduzione. L'enteropatia immunoproliferativa è una malattia autoimmune dell'intestino che porta all'anoressia, alla diarrea cronica e persino alla morte. Una dieta speciale può migliorare la qualità della vita dei cani colpiti. La razza può anche cadere preda di atrofia retinica progressiva, degenerazione retinica che causa cecità e diversi problemi visivi ereditari meno gravi come il coloboma, un buco nella struttura dell'occhio. La durata media della vita di basenji va dai 10 ai 13 anni.